oh allora io direi di fare le mappe single player flash poi facciamo questo livello che mi toglierà la monetizzazione per oggi dai ma non l'avevo già fatto sto livello non mi ricordo di averlo fatto tipo nel 2018 il video prima del primo video di benedì di fortnite ho già spiegato tre vite vorrei solamente far notare questo ma poi devi avere il tempismo giusto su questo livello che io non ho da nessuna parte ok c'è fort ma io che strada devo ah ecco il gol quindi devo fare tutto quel tragitto e rapicarmi lì sul trono sul trono del su volevo fare una battuta non lascio dimenticare ma io non salto sulla mela io salto qui lo sto speedrunnando sto livello dai devo ancora studiare il corpo per capire che c***o siano quelle bolle no lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo che non volevo saltare ma devo veramente saltare su degli occhi e non penso che siano molto e vabbè così è più facile scrivere gli ostacoli perché di solito su tutti gli altri ostacoli quindi non dico niente non dico niente non voglio fare lo stesso errore di prima quindi c'è la volta salto ora dobbiamo solamente scavalcare questo trono della verità e andare a finire di bello così almeno ci liberiamo da questo o proprio oh mio dio che trick ho fatto io non c'ho la testa io non c'ho la testa 5 minuti yeah ho perso solamente 5 minuti contando anche i primi 2 minuti di intro perché io sto registrando in realtà da 7 minuti perfetto perfetto ok io comunque sto livello non l'ho mai fatto quindi questo stavo dicendo sto livello non l'ho mai fatto quindi in teoria no che stavo dicendo dovrei riuscirci no siccome sto livello non l'ho mai fatto probabilmente ci metterò più di 5 minuti poi solamente la parte iniziale solo la parte iniziale sto già failando più più volte di quanto pensavo perché peraltro questa parte è facile grazie 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 vi voglio bene check point che bello è bello vabbè ma questa parte è facile questa parte non è facile ma mi ha staccato una gamba mi è semplicemente esplosa una bolla sconosciuta sconosciuta vabbè no ma sto livello è facile ragazzi posso farlo anche senza una gamba volevo tornare indietro per prenderla in corsa per provarci si vabbè ma questo altro come si nooo pensavo di farcela pensavo e non è una cosa ah basta ma devo andare devo essere deciso si ma che me ne fu se non lo prendeva se non lo prendeva se non lo prendeva con la punta del piede l'ho preso sto c***o di check point dai 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 che ce la facciamo e non so andare e non so andare su dei pezzi di ossa ok questa frase è un po' strana però possiamo restare qui anche 13 anni tanto non cambia ma no se cadevi se cadevi io giuro che sto zio mi lo detesto ti detesto ma porca pu- mamma mia mi son visto la morte in farsa il gollo nooo dai era lì era lì era lì che c***o bravo ed bravo ed 7 minuti evviva ma oggi stiamo facendo show livelli dove c'è è la madonna che no vabbè io mi butto no 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 io non voglio stare in uno proprio così no no ma questo livello cosa vuole da me? niente si ma che m***a devo fare io? oh oh ho trovato la strada? si devo saltare sulle lame ma poi sti bast***ti non hanno messo un jack point proviamo dai non ha funzionato e invece ha funzionato e invece no 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 io non sto capendo io non veramente no ma perchè? ho capito comunque ho capito dove devo saltare e come devo saltare cioè la prima volta che volevo comprare sto gioco è andata così voglio sto gioco perchè è bellissimo l'ho fatto fare jay e quindi lo voglio ma perchè è l'unica volta che ci riesco a farci da putt' di mare cinque vite c'è no ce l'avevo fatto ce l'avevo fatto ce l'avevo fatto bene ricominciamo da capo tanto non ho fatto progressi sono lì per tutte le trenta vite io ero sempre lì tanto tanto ora io so cosa devo fare e soprattutto come ma adesso adesso devo morir adesso devo morir mi dispiace dai please no io voglio e il porca di quella puttana ma quello è un 7 o un 1? era un 1 era un 1 porca puttana no si no oh no ci crede va l'importante è che almeno da più fare quella parte lì Che devo fare? Ah ma devo usare il mattello per il... Sì, ciao Adesso E non ce l'ho fatta Madonna Sì, ok, ok Ora devo... Ah, oh, sì, ciao Ma basta No Sì Che culo? Che culo Sì, ma raga Ma non si vede niente Non si vede niente Lì, lì No Sì No, no, ho sbagliato tutto Ho sbagliato il gioco Ho sbagliato il gioco Una vita Ok, devo fare tutto in una vita Perfetto Cioè io no, potevo arrivare lì con 30 vite Che sarebbero tutte le vite che ha... Che ti da sto livello No 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 Bravo Sì Che l'ho fatta? Ora siamo di nuovo qua In sta parte di me Dai, 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 dai Sì Ok No, ho sbagliato tutto Dovevo saltare Oh, adesso me l'hai fatto Grazie Ci sono arrivato un po' da testa Ma penso si possa fare solo con il trampoline Per quanto non ci è arrivato lì Per quanto Ma i giochi Non erano stati fatti per farti divertire Tutti ti fanno incassare adesso Se il gioco abbiamo un finale Ma poi non è che tutti i giorni muoiono Guarda, sarai contento Seriamente Sarai veramente contento Oh, che bello Perdere tutti sti minuti della mia vita In un solo livello Allora, adesso ci arrivo con la testa, no? E poi Ora provo ad arrivarci Ma è impossibile Oddio, raga Se ci arrivo Quanto mi incazzo Quindi ci arrivavo con la testa No, io sono veramente un incoglionito Posso farlo solo con la testa? Zitta, parte Dai No No No, no, no Non devo fare il coglione Madonna, due vite No, 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 no No, una vita Non devo fare cacciate ora Non devo assolutamente fare cacciate No, il checkpoint No, no, significa che non è finito Io pensavo di sì Ma sto livello, no? Sto livello belli No Mi cadono le palle al ripallo Ma sto livello, quanto deve durare? Siccome ora c'ho più vite Dove riuscirci? Dove spostare questo? No, che devo fare? Almeno che non debba Facciare la testa? Forse ce l'ho fatta? Forse ho capito, forse Ok, ho capito Si doveva fare così Salvo sul checkpoint E lanciavo la testa Nella direzione giusta Che in questo caso È questa Solo che ora devo stare Su queste cose Penso che si possa saltare Direttamente, però Che culo, che culo, che culo Che culo Sì, vabbè Ma che mi volete far fare, raga? No Proverò a farlo io off camera A sto livello Ma Diciamo che Non è molto facile Quattro vite Vabbè Se il gioco mi andrà a finire Io se failo Di nuovo Lo dovrei fare al primo tentativi Ora devo fare tutto Al primo tentativo Se no Devo ricominciare a livello A E non lo voglio fare Sicuramente Quindi Come va a far Che c'è Se failo Se failo Come va a farlo Grazie.